Rubata la bicicletta elettrica di un pensionato, il ladro è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. L'autore del ride, come vedete dalle immagini, è stato intercettato dall'obiettivo del detective Sergio D'Amore, che ha l'ufficio situato nel palazzo di Via Dante dove è stato commesso il furto. Nel video la sagoma del ladro in azione, intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica scorsi, con il cappuccio della felpa a coprire la testa, che prima effettua un sopralluogo nell'androne dello stabile preso di mira, poi dopo essersi accertato più volte che non ci fossero persone a transitare nella zona, si avvicina alla bici e tagliato il lucchetto che la teneva ferma alla ringhiera delle scale, se ne va via in sella la due ruote, un'azione di 15 minuti circa che non è sfuggita alle telecamere dell'investigatore privato. Il piano perfetto finito nel mirino delle telecamere puntate all'interno e all'esterno del palazzo. Il video è stato consegnato da detective alla polizia municipale. I frame del filmato potrebbero essere molto utili per risalire all'autore del ride. Non sarebbe la prima volta che in via Dante si registrano furti di biciclette per il pensionato, al di là del valore economico della due ruote, amarezza per essere stato privato del mezzo che dà vita alla sua passione. Quindi può essere d'amore un ladro seriale di biciclette? Sì, più o meno pare che sia sempre la stessa persona, almeno dai dati. Abbiamo visto che usa sempre la stessa tecnica, lo stesso giubbino, si può dire. E pare anche le stesse scarpe, perché in effetti nel giro di un paio di anni si sono verificati questi tre fenomeni qui in via Dante, proprio in questo stabile. E purtroppo ha i danni della stessa persona. Ha i danni anche, ahimè, ha i danni sempre della stessa vittima, purtroppo. Questo verso che ora? Questo è successo nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.57, l'orario dal servizio di videosorveglianza. Ed è una bicicletta elettrica? Una bicicletta elettrica per un valore di oltre mille euro, insomma. È un danno di ciò d'amore anche morale per la persona che ha subito questo unissimo furto, perché è un anziano pensionato che si fa il giro in bici? Sì, è una persona stimata qui in zona, una persona per bene, una persona tranquilla, che molto spesso si riunisce con i suoi amici coetani e si vanno a fare un giretto per la città. Quindi voglio dire, togliere questo, come dire, questo hobby, ecco, voglio dire, è un peccato.